L'arte del movimento è un'invenzione di Luana Brunetti conosciuta per i suoi insegnamenti in tutta Italia. Dopo molti anni il suo sogno è diventato realtà perché oggi alla Despoli ha uno studio di Pilates ed equilibrio posturale. Questa idea è un mio grande sogno che ho maturato nel corso degli anni. Dopo tanti studi ovviamente ho raggiunto una certa professionalità che mi ha permesso di aprire uno studio e portare avanti tutte le mie idee e appunto gli studi fatti nel corso degli anni. La struttura nasce dall'esigenza di molte persone che vogliono migliorare il controllo posturale ed è rivolto a giovani ed anziani. Io ho dei gruppi di lavoro perché insegno Epilates e nello specifico ginnastica posturale Mesier che è proprio un ripristino posturale globale ma anche attraverso i grandi attrezzi del Pilates riesco a appunto lavorando con i muscoli profondi riesco a ricreare i giusti spazi intervertebrali. Dopo una lezione cosa le dicono i suoi allievi che sono stanchi? Sono stanchi ma sono assolutamente soddisfatti anche perché una lezione di Pilates è un lavoro anaerobico e all'apparenza sembra molto facile forse perché è abituato a fare dei lavori più esternamente più esteriori mentre in realtà si va a lavorare proprio come dicevo prima sulla consapevolezza del corpo in movimento e ecco che ritorna appunto l'arte del movimento e sui muscoli più profondi. Questi che esercizi sono? Allora questi sono praticamente degli esercizi di Pilates con i grandi attrezzi perché noi facciamo in questo studio non soltanto lezioni di gruppo come il Pilates anche mat work Pilates e props con i piccoli attrezzi che possono essere o la softball o il magic circle o il foam roller ma nello specifico questa parte qui è uno studio di Pilates con i grandi attrezzi quindi reformer, cadillac, barrel, chair e spine corrector dove proponiamo e le individuali e i duetti e i tree. ritorno ci sono Grazie a tutti.